siamo in compagnia con matteo spagnuolo tu sei trino matteo sei un uomo un padre di famiglia sei un grandissimo uomo di sport è anche un grande professionista se non barbiere ti voglio chiamare barbiere perché così insomma i grandi si si definiscono ecco matteo martedì 3 maggio parte la 99esima edizione del torneo over 35 si affrontano lo stadio minamare alle 19 e 30 il principe umberto contro rezzullo impianti siamo arrivati alla 29esima edizione ma questo è un torneo in effetti molto storico forse uno dei primi tornei amatoriali che siano stati organizzati a maffedonia e tu sei stato colui che ha organizzato il primo torneo over 35 ce ne vuoi parlare si grazie antonio buonasera a tutti grazie per avermi invitato dunque questo primo torneo che non era over 35 è nata da un'idea di giovanni osbello buonanima che all'epoca era un dirigente del manfredone a calcio e curava il settore giovanile purtroppo in quegli anni i soldi scasseggiavano e i ragazzi erano spromissi anche di indumenti praticamente quando doveva andare fuori dove andare a giocare qualche partita a monte san dancio san giovanni notonto un altro purtroppo andavano con gli avvi d'oro avevano un pantaloncino così insomma nasce questa idea con giovanni osbello di poter organizzare un torneo per far sì che accumulasse un po di soldi per l'acquisto di questi indumenti questo era l'inizio che si è avviata non era certamente over 35 l'idea era quella di far giocare tutti quei personaggi che giocavano a pallò in gioventù però all'epoca 30 anni fa garantone di sapere che la gente è arrivato 28 29 anni smettiamo di giocare dove pensare la famiglia tra lavoro ad altro e smettiamo di giocare allora ho un'idea di farci rigiocare con le persone chi faceva il falegnano il barbiero come me perché anch'io ho partecipato a quei tornei prima ancora adesso giochi ancora adesso giochi la mattina ti vedo la domenica mattina in perterrito allo stadio miramare ti fai i tuoi giri di campo riesco a diversi è un mito se un mito matteo davvero divertirmi ancora antonio sì e allora nasce quest'idea con giovanni osbello e riusciamo a fare questo torneo in collaborazione lui mafronia calcio e io wisp ero ancora presidente della presidente del ero appena arrivato nella wisp nel 89 90 e mi fece subito presidente della lega calcio wisp allora il presidente della wisp era l'amico angelo riccardi che poi è stato sindaco assessore per tanti anni sia manfredoni che in altri posti e insomma se questo torneo e lo facevamo insomma questo è uno scopo che facciamo questo torneo insomma riuscì gianno svello a fare un qualcosa per i suoi ragazzi e questo mi ha fatto felice ecco ecco te lo ricordi che ricordi che ha vinto la prima edizione del torneo 29 anni fa non ti ricordi a cosa che non lo vinse la squadra piemontese di pierino piemontese ecco anche una buona memoria vedi è visto che ho stimolato lui era proprio un partito del calcio e mi sa che anche adesso gioca ancora anche con l'età pure lui gioca si diverte ancora ecco il torneo over 35 allora gente tra virgolette datata ecco però è gente che ha una grandissima passione per il calcio quindi anche se ha appeso gli scarpini al chiodo perché insomma non lo svolge più da tempo perché ha famiglia però aspetta con ansia diciamo con ansia e con trepitazione questo torneo che si si svolge oramai da 29 anni sono tutti quanti amici anche se qualche volta c'è stato qualche litigio in campo però ci può stare nell'agonismo ma questi non vedono l'ora di fare questo torneo e antonio inizialmente era così era gente che si divertiva a giocare al calcio ma qui con gli anni poi è diventato un torneo per proprio un campionato per proprio perché ci sono stati anni che io ho fatto un torneo a 18 squadre era un treo provinciale quindi da san giovanni monte san d'angelo mattinata foggia san marco e militava gente che veramente ha giocato ecco ti ricordi qualche nome particolare si ricordo molto volentieri benito ripoi san giovanni i cucini merla giovanni e pietro berla paladino padalino di del foggia buco del foggia terracenere del bari e poi i nostri valori del ricco e tanti altri giocavano iniziali seri superiori insomma chiarella volta al chiarella che ha giocato nel catanzaro e quell'anno più di fortuna era capo con noi eri coppitalia insomma gente di certo valore ecco matteo i ragazzi adesso bisogna spingerli per andare verso la scuola calcio e invece c'è gente che ancora vuole giocare a calcio nonostante tutto in cosa è cambiato secondo te in questi trent'anni il calcio il calcio non è che è cambiato è sempre quello perché dai piccoli i grandi l'agonismo c'è sempre anche a questa età giustamente è cambiato forse i tornei ecco una pecca nostra che io specialmente ho iniziato non soltanto ho iniziato prima della wisp facevo torne con marasco sono stato dieci anni che con lui con la fiamma di marasco giuseppe marasco che tu conosci benissimo e lì insomma facevamo tutti i tipi tornei quell'aziendale quelli quelli giovanili insomma abbiamo dato un bel po di tempo stiamo chiedendo però non lo facciamo ancora perché purtroppo gli impianti sono quelli e l'intenzione era quella proprio di non di abbandonare 35 perché queste secondo me finché sto io e quelli che mi seguiranno anche il presidente che sa adesso che mi seguono l'azio falcone che è un grandissimo penso che abbandonerà dopo che abbandona e secondo me questo arriverà come il torne di aria ecco te la faccio la domanda voglio che ho capito dove vuoi arrivare c'è l'over 35 diciamo si potrebbe organizzare un under 35 nel senso ti faccio come battuta un tempo insomma mi diceva qualcuno che come finivano i tornei quelli organizzati dalla figc c'erano tantissimi tornei di giovani e proprio dai quei giovani che giocavano qui allo stadio miramare parrocchiali insomma di quartiere venivano fuori poi i giocatori che si aggregavano anche alle squadre diciamo del settore giovanile del maffodoni anche prima squadra certo antonio questo è il lavoro che si faceva tanti anni fa poi purtroppo è andato per la questione da naro perché non si giovano non potevano cacciare soldi non c'erano anche gli sponsor che stanno oggi perché oggi sono gli sponsor che danno tutto altra l'iscrizione fanno il magliette e poi sono tutti i resti che ci stanno per il giovane è molto difficile però ci abbiamo tentato parecchie volte però dobbiamo dire anche che gli impianti cantonio sono carenti e io parecchie volte sia con la scuola ho provato a fare questi tornei quelli calci a 5 calci a 7 abbiamo fatti parecchi però quelli calci a 11 proprio per promuovere questi ragazzi affinché uscisse qualche qualche elemento buono da poter valorizzare ecco questo è il desiderio che penso che lo faremo provvederemo anche quest'anno a chiacchierare con il manfredone a calcio se c'è la possibilità già che sono loro adesso che detengono la gestione di miramare se ci danno l'opportunità di poter fare un torneo serale almeno con tutti gli impegni che ci sono però purtroppo spero che ci lasciano uno spazio per poter far sì che la whisper riesca organizzare anche questo famoso torneo giovanile per poter valorizzare tanti giovani ecco questo è il mio desiderio grazie matteo e bocca al lupo per questa ventinovesima edizione del torneo over 35 città di maffedonia grazie a te grazie